Fausto Macchi, vicepresidente dell'FC Ponzacco 1920, campione d'inverno e si guadagna altri due punti sul Castelnuovo. Sì, in questa fase del campionato è importante mantenere la vetta per arrivare più in là possibile. Poi qualcuno dei nostri inseguitori inciamperà sicuramente, per cui pensiamo di continuare così e vedere poi fra un po' di tempo come sta la classifica. Domenica riparte il girone di ritorno e poi ci sarà il 12 la sfida col Pietrasanta e poi la finale di Coppa Toscana. Sì, è un momento delicato della stagione, si sta decidendo il campionato in un certo senso. Non siamo convinti che prima della sosta natalizia c'è la partita di domenica, finendo bene finiamo in bellezza. Un'annata straordinaria, l'unica partita in cui siamo stati sfortunatamente sconfitti è stata annullata, quindi rimaniamo con tutte le nostre partite senza sconfitte in campionato. Che sono 72. Sarebbe bellissimo perché anche questo 2013 si chiude alla grande. E ci prepariamo poi per il gennaio perché la finale di Coppa Italia a fase regionale è una cosa a cui teniamo tantissimo perché la Coppa Italia è sempre stata una cosa di fascino per Ponzacco. I tifosi mi dicono quando andremo lontano a fare le trasferte, a organizzare i pulmari eccetera. Per cui è una cosa a cui sentiamo tantissimo, ovviamente il campionato è il primo obiettivo e in questo momento c'è poco da lamentarsi. Anche con grande fatica però siamo primi. Ecco, ho in mente una fotografia della terza categoria quando eri a vedere una partita su una montagna di terra, precisamente nel campo della Scella. Cos'è cambiato da quel 14 luglio 2011 ad oggi? Ma è cambiato tantissimo, prima di tutto il livello tecnico, agonistico, perché questa è una categoria dove scendono volentieri anche gente che ha fatto professionisti, per cui il livello è altino, diciamo, pur essendo dilettanti. E poi è chiaro lo scenario dei campi, la struttura della società che è notevolmente migliorata. E però ribadisco la nostra grande umiltà perché siamo ripartiti effettivamente dal basso. La terza categoria ci ha visto su campi dove davvero avevamo anche difficoltà a trovare. Però voglio dire niente, ci concentriamo ora su questo momento pensando da dove veniamo, cercando di fare il meglio possibile. Grazie mille! Grazie!